Giorno dopo giorno le prossime elezioni comunali di Sernia si stanno evolvendo e trasformando, perdendo di vista l'orizzonte civico di Palazzo San Francesco e guardando molto più in là, verso il 2023, quando si voterà per Regione e Parlamento un cantiere aperto, o meglio un laboratorio, in cui si fanno e si disfano nuove confluenze e nuove alleanze. Quella che è venuta fuori per prima e ufficialmente è l'aggregazione tra PD e 5 Stelle. Attualmente in Consiglio Comunale c'è il solo Mino Bottiglieri a rappresentare i grillini. I democratici, anno dopo anno, hanno perso tutti i loro rappresentanti, a partire dall'ex candidata sindaca Formichelli. È evidente che stando al governo insieme e dopo essersi già alleati in altre grandi città, anche Esernia, Grillo, Conte ed Enrico Letta punteranno ad aggregare attorno a loro tutte le forze laiche e partitiche del centro-sinistra. Ci sono poi due alleanze in cantiere, sono entrambe centrali rispetto a destra e sinistra. La prima è l'unione tra azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi e il movimento civico Nexus. La seconda è l'alleanza tra Udc, Orgoglio Molise e i popolari di Vincenzo Niro. Infine c'è il magma incandescente del centro-destra ufficiale, quello che sulla carta, se fosse unito, avrebbe già la vittoria in tasca, ma che attualmente viaggia su tre, quattro direttrici diverse. Si comincia con Michele Iorio e Filoteo Di Sandro di Fratelli d'Italia, che chiederanno il sindaco per il loro partito, ma che non ripudierebbero, così ha fatto capire l'ex governatore, una grande alleanza civica e trasversale che unisca tutti sotto la stessa bandiera. C'è poi Fratelli d'Italia più integralista che quella di Giovan Calmini Mancini, che si richiama all'assessore regionale Quintino Pallante e che boccia le alleanze trasversali, puntando solo sul centro-destra. Infine c'è il blocco Forza Italia-Lega, che si raccoglie attorno a Anna Elza Tartaglione e che aspetta le decisioni del tavolo nazionale con Berlusconi, Salvini e Meloni. Appare del tutto scontato che dietro a tutto questo minestrone politico si nascondano mire ben più elevate di Palazzo San Francesco, ovvero le poltrone da consigliere regionale e da parlamentare. Dopo l'esodo di ben tre parlamentari grillini su quattro, ci sono due poltrone da deputato e due da senatore da assegnare. E conquistare il comune di Isernia è una prima base. Stesso discorso per la regione, anche qui i movimenti ed i riposizionamenti sono già in corso, difficile se non impossibile decifrare il futuro, ma gli schieramenti di Isernia ci diranno già chi giocherà da protagonista per un giro in più sulla giosta di Palazzo Daimmo.